Adesso invece con il Presidente di Confartigianato e con il Presidente anche della Camera di Commercio di Arezzo scendiamo più nel livello locale e cerchiamo appunto di capire qual è e quale sarà il ruolo delle associazioni di categoria e soprattutto anche come sta la nostra economia. Credo che la crisi della rappresentanza che riguarda i partiti, l'associazione di categoria, i sindacati e tutti i corpi intermedi di fatto sono dovute fondamentalmente all'impatto della globalizzazione, infatti ciò che ormai viene deciso in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi decisione di carattere economico-politica poi ha delle ricadute che i territori ormai purtroppo non possono che subire in maniera passiva e questo ovviamente mette in crisi anche quel sistema della rappresentanza e la scommessa sarà proprio nel superare questa passività che i territori oggi sono costretti a subire. L'associazione che io presiedo, Confartigianato e Impresarezzo, ha una grandissima vocazione verso il sociale, non solo verso l'economia. Io credo che non si possono discernere questi due aspetti anche quando si parla di economia e credo che in questo vado molto d'accordo con quelle che sono le opere del professor Zamani, nelle opere che lui ha negli anni ha prodotto. Si parla moltissimo di questo tipo di simbiosi ed è quella che poi viene rappresentata anche dai valori che poi noi vogliamo mettere nella nostra società. E l'impresa, soprattutto l'impresa artigiana, quella che più ha contatto con il territorio e con la vita civile veramente di tutti i giorni, ne è l'esempio lampante di come la famiglia e i valori della famiglia molto spesso si estendono veramente anche all'impresa e viceversa.